Elio, la riapertura delle librerie è un segnale positivo per Crotone, per la nostra economia? Sicuramente la riapertura delle librerie è un segnale positivo per questa città. La gente ha bisogno di leggere, sta venendo in libreria. Questo è un periodo che bisogna leggere, quindi sicuramente c'è questa voglia di leggere. Ma i crotonesi si muovono, vengono in libreria, fanno questo tipo di scelta? I crotonesi si stanno muovendo, chi ha voglia di leggere e comunque di distrarsi entra in libreria. C'è qualche libro che piace di più e che è scelto dai nostri concittadini da leggere? Diciamo che la gente non viene in libreria con un titolo ben preciso, ma viene e comunque guarda gli scaffali e scelga il libro che più gli conviene. Il libro è inteso come svago e quindi ogni libro in questo momento va bene. Qualsiasi cosa basta che si legga.